Chiara Ferragni e Fedez. Mancano le carte della separazione, la famiglia li vorrebbe insieme, ma loro si sono bloccati su Instagram. Mentre sui social media circolano messaggi oscuri che proiettano un'ombra sulla relazione dei Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni, sembrano aver rallentato i loro movimenti su Instagram, essi sarebbero addirittura bloccati a vicenda. Tuttavia, fonti vicine alle loro famiglie svelano un'altra versione della storia. Come accade in tutte le separazioni, è naturale che la possibilità di trovare un nuovo amore esista, ma al momento sarebbe semplicemente, troppo presto. Fedez, ospite a Belve, ha confessato di voler trascorrere un po' di tempo da solo. Mentre Chiara Ferragni ha deciso di non commentare pubblicamente le dichiarazioni del marito. Ma un barlume di speranza pare sia ancora acceso. E a rivelarlo è il settimanale chi. Fedez e Chiara Ferragni torneranno insieme. Fonti vicine agli ex coniugi, suggeriscono che i due potrebbero ancora nutrire sentimenti l'uno per l'altro, e che le rispettive famiglie stiano intervenendo per cercare di riavvicinarli. Secondo il settimanale chi, in edicola questa settimana, le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi, e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate. Lui la chiama ancora, mia moglie, ma stando alle ultime notizie, l'amore sembra esattamente l'ultima cosa a legare ancora i Ferragni. In che rapporti sono oggi? Nonostante la distanza tra di loro, Fedez e Chiara sembrano mantenere un contatto limitato solo alle questioni riguardanti i figli. Mentre i loro profili Instagram mostrano un'impegnativa agenda di eventi mondani, ciò che non viene condiviso dai diretti interessati viene svelato dai paparazzi. In un recente scoop, i fotografi sono riusciti a immortalare il rapper durante una delle sue nottate milanesi. Fedez è stato avvistato a bordo della sua Ferrari, mentre si spostava tra due esclusivi locali, da casa Cipriani all'Armani Privé. Successivamente, nel cuore della notte, è tornato nel suo nuovo appartamento, accompagnato da alcuni amici e due misteriose ragazze. Si sono bloccati su Instagram. Il mistero attorno alla relazione di Fedez e Chiara Ferragni si infittisce con il recente sviluppo riguardante il loro profilo Instagram. È emerso, infatti, che i due si sarebbero bloccati l'un l'altro sui social media. Al momento non è chiaro chi abbia effettuato il blocco, se sia stato Fedez o Chiara, ma è evidente che ciò sia avvenuto poiché i tag alle loro foto sarebbero misteriosamente scomparsi. Questo gesto suscita domande e ipotesi su eventuali tensioni o cambiamenti nella loro relazione. Il fatto che i rispettivi tag siano stati rimossi alimenta ancora di più le speculazioni su possibili divergenze o discussioni tra i due.